Nuovo Consiglio Comunale per tornare a parlare purtroppo del lato economico. Diciamo purtroppo perché questo bilancio la sta un po' perseguitando, ma io le chiedo cos'è che vorrebbe invece che arrivasse ai cittadini di importante in questo momento tra tutte le sue linee chiarificatorie che ogni volta dedica insomma in assemblea? Sì, questo è un consiglio importante, forse il più importante dell'anno perché l'amministrazione porta il bilancio all'approvazione del Consiglio e attraverso il bilancio disegna sostanzialmente quello che vuole fare dell'appropriazione politico-amministrativa. Quello che vorrei che passasse ai cittadini è lo sforzo enorme che l'amministrazione ha fatto per cercare di garantire servizi, equità sociale e contenimento nella pressione tributaria. Questo è quello che vorrei che i cittadini avvertissero dal bilancio. Abbiamo fatto veramente salti mortali con gli adulti, con l'aiuto determinante degli uffici per non gravare sulle tasche dei cittadini, per garantire equilibrio tra le varie fasce della società, tra chi ha meno e chi ha un po' di più e per garantire i servizi, quello che possiamo, quello che riusciamo a fare. Adesso c'è un altro importante appuntamento, quello a cavallo del 2015, il passaggio da un bilancio all'altro, poi si parlerà di bilancio di cassa. Si faranno i conti e le azioni secondo quello che si ha davvero posato nel cassetto? Sì, questo è un passaggio storico, decisivo. Lo citava di recente anche il ministro dell'economia Padoan e lì bisognerà essere ancora più seri e più rigorosi perché occorre che i cittadini comprendano che se non si pagano i tributi non si possono garantire i servizi. Cioè tu puoi spendere quello che incassi e se non incassi devi mettere da parte le disponibilità prendendoli da altri capitoli di bilancio. Il passaggio è decisivo e quindi occorre un lavoro di gruppo, di sinergia tra amministrazioni, uffici e la cittadinanza. Un'ultima domanda. Questo che abbiamo annunciato la spaventa o sa che il suo gruppo tra giovani e veterani può davvero trasferire in paese quella che è la responsabilità di una casa comunale? No, non mi spavento affatto. Anzi è una sfida affascinante. Mi piace che la nostra amministrazione fatta come diceva lei di un giusto mix tra esperienze e giovani competenze sia chiamata ad affrontare delle sfide così importanti. Il piano comunale spiaggia, il piano strutturale, il passaggio dal bilancio di competenza a quello di cassa. E credo che alla fine i cittadini come hanno sempre fatto a Marina di Giosagionica nei momenti critici risponderanno alla grande perché Marina di Giosagionica è un comune che è una città che tanto e tantissimo hanno dato e possono ancora dare alla collettività e al territorio della Locride.